La nuova scossa avvertita nella regione di Tokyo di 6.2 gradi sulla scala Richter mantiene la popolazione in uno stato di continua tensione. Secondo le previsioni dei servizi sismografici c'è oltre il 70% di possibilità che una nuova scossa pari o superiore a 7 gradi colpisca la zona della capitale entro martedì. Il governo non ha indicato le zone off limits, dice una residente della prefettura di Iwate nel nord-est del paese. Non ci dicono cosa fare, veniamo ignorati e ci chiedono di ripulire le nostre città. Nessuno viene a lavorare, solo la gente a fare delle fotografie. Mentre acqua e cibo diventano di ora in ora beni di difficile reperibilità, il pessimismo su bilancio si trasforma in cruda realtà. 2000 i corpi ritrovati nella prefettura di Miyagi, quella più colpita dallo tsunami, portando il numero di vittime accertate a 3600. Secondo le stime i morti potrebbero essere oltre 10.000.